Manca ormai pochissimo all'inizio ufficiale della stagione 2021-2022, la terza consecutiva in Serie B per la cestistica torrenovese, che ieri ha annunciato l'ingaggio di Alen Nuanovic, centro classe 2003, sloveno di formazione italiana, che nonostante la giovanissima età può già garantire presenza sotto le plance, ma anche dinamicità e buona mano dalla media distanza. Alla vigilia del ritiro precampionato, che prenderà il via dopo il raduno di domenica, abbiamo sentito Thomas Tinsley, playguardia che sarà a sé portante della formazione allenata da Maurizio Bartocci. Le prime impressioni sono buonissime, ho conosciuto subito il vasto staff della cestistica torrenovese e mi hanno fatto una buonissima impressione, hanno le idee chiare per l'anno che verrà e degli obiettivi ambiziosi. Il girone che andiamo ad affrontare sarà sicuramente molto fisico, come al solito le squadre del girone del sud sono molto competitive, molto aggressive e sicuramente non si giocherà col fioretto. Vincerà chi saprà mettere più aggressività e più fisicità in campo e siamo pronti a farlo anche noi.